Deputato Federico Mollicone per il rilustare l'ordine del giorno numero 36. Grazie Presidente, questo ordine del giorno attiene un po' alla questione delle questioni che anche oggi è su tutti i giornali e cioè quello se i criteri stabiliti dei colori delle regioni e dei provvedimenti presi dal passato governo, dal comitato tecnico scientifico possano essere considerati validi o meno. Questo provvedimento in esame reca interventi poco incisivi per i settori maggiormente colpiti dagli effetti economici della crisi pandemica e non revisiona di fatto il sistema pubblico di contrasto al contagio. Come indicato da carta bellotta della Fondazione Gimbe, l'attuale sistema delle regioni a colori, oltre a esasperare i cittadini e a danneggiare le attività economiche con decisioni last minute, non è riuscito a piegare la curva dei contagi e mantiene ospedali e terapie intensive al limite della saturazione, con la minaccia delle varianti che da un giorno all'altro potrebbero mandare in tilta i servizi sanitari e questo è il nodo dei problemi. Non sono state rafforzate né le cure domiciliari né le terapie intensive e in mezzo c'è la narrazione dell'emergenza. Lo stesso indice RT usato come parametro, come indicato sempre dalla Fondazione Gimbe, è inappropriato per informare decisioni rapide perché oltre a essere stimato sui contagi di due o tre settimane fa, presenta numerosi limiti. Viene stimato solo su casi sintomatici, circa un terzo dei casi totali. Si basa sulla data inizio sintomi che molte regioni non comunicano per il 100% dei casi, determinando una sottostima dell'indice. È strettamente dipendente dalla qualità e tempestività dei dati inviati dalle regioni. Sarebbe auspicabile quindi poi un'ampia campagna di raccolta di plasma negli ospedali nazionali, come già avvenuto con successo con il progetto tsunami dello Spallanzani-Forlanini, che incredibilmente è stato sospeso quando la raccolta di plasma dovrebbe continuare sempre ed è sempre prevista, perché altrimenti lo dobbiamo acquistare dal Nord America. Con questo ordine del giorno impegniamo il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere nominativo, normativo, volte alla revisione complessiva del sistema di tracciamento del contagio, del sistema sanitario territoriale, completando il potenziamento del sistema delle terapie intensive e migliorando il piano vaccinale. A valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione delle chiusure e della ristorazione, prolungando l'orario di apertura almeno fino alle 22, se non alle 24. Non ha alcun senso infatti il limite orario delle 18, se non quello di distruggere un'economia e una filiera nazionali. A valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla ripresa, in sicurezza delle attività teatrali, cinematografiche, sportive, museali, delle sale da ballo, delle gallerie, d'arte e dei luoghi della cultura, in collaborazione con le associazioni di infermieri, medici, di base e volontariato e con la protezione civile, così da garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio. Colleghi, rappresentanti del Governo, quest'ordine del giorno è un ordine del giorno di buon senso e va da un lato a chiedere di rafforzare le cure domiciliari che prevengono i ricoveri, dall'altro a rafforzare le terapie intensive e a riaprire luoghi di aggregazione. Insieme alle associazioni di infermieri, professionisti, insieme al volontariato della protezione civile è possibile rafforzare il tracciamento, e cioè quello che non è stato fatto fino ad oggi, se non con un'applicazione assolutamente non funzionante, e dallo stesso tempo fa ripartire un'economia, che è quella appunto dello sport, della cultura, della musica, della danza e di tutte le filiere, comprese quelle del terziario e della ristorazione, che sono duramente colpite da una serie di provvedimenti assolutamente inaccettabili, insensati, che creeranno un mare di contenziosi di cui poi dovrete rispondere. Per cui lanciamo e chiudiamo con questo appello al Governo affinché venga accolto quest'ordine del giorno, dal momento che lo stesso Governo Draghi sta rivedendo in queste ore tutti i criteri di classificazione. Grazie. Grazie.